Il sistema, mettere a integrare l'imprenditorialità alberghiera con l'imprenditorialità appunto del mondo dello shopping sia un modello assolutamente vincente. Chi consumatore prima di uscire di casa, magari anche in un'analisi di programmare una vacanza, non cerca di ottenere tutto dalla stessa. E noi quindi ci proponiamo di offrire il meglio ai nostri turisti, di rappresentare il nostro territorio con la maggiore shopping experience possibile.